Ancora uno 0-0 casalingo, il terzo delle ultime quattro giornate per i nero stellati. Nella gara contro il Ponte Uomano il Pratola cercava di tornare di nuovo al gol e soprattutto la vittoria tra le Muramiche, ma ancora una volta deve accontentarsi di un risultato ad occhiali. Nella gara di oggi il tecnico del Pratola, Colella, recuperava Egino D'Andrea che però era in panchina. Già al primo minuto c'è una bella azione del Pratola che cerca di andare in vantaggio subito con Safon che mette al centro, ma è in area e il liberatore tenta la botta ma viene anticipato e l'azione sfuma. Al diciassettesimo forse l'occasione più ghiotta dei nero stellati nel corso del primo tempo. Ancora un bel cross di Safon, ancora una volta è stato lui il propiziatore delle azioni più pericolose dei nero stellati. Colpo di testa, botta sicura da distanza ravvicinata di liberatore e la parata di Di Martino. Tutto qui il primo tempo, il Ponte Uomano praticamente non ha mai tirato in porta e il Pratola ha controllato agevolmente la partita. Nel secondo tempo, al nono minuto, subito si fa vedere ancora il Pratola con il cross di liberatore. Tiro di prima intenzione di Caroso e Di Martino riesce a parare sicuro sul tocco del centrocampista pratolano. Al decimo c'è la punizione di Fabiocchi. Palla, pelo d'erba e penna riesce a intercettare. Nella Pratola entra Colella al posto di Caroso ed entra Di Cioccio al posto di Villani. Il Pratola tenta in tutti i modi di passare in vantaggio ma rischia moltissimo. Al quarantottesimo, in pieno recupero, Misantone lanciato da Rocci, se ne va tutto solo in contropiede. Ti trova tu per tu con il portiere Penna, batte a botta sicura e il portiere riesce a neutralizzare. In seconda battuta ancora Misantone la palla che colpisce in pieno la traversa e l'azione sfuma tra il brivido dei tifosi del Pratola. Ma due minuti più tardi, al cinquantesimo, è ancora Misantone ad avere la palla ghiotta per vincere la partita. Davanti a Penna, ancora tu per tu con il portiere, riesce a tirare a botta sicura ma ancora una volta Penna si supera parando e poi si ritrova il pallone tra le braccia. Quindi brividi finali per il Pratola che alla fine conquista un punto contro la quinta in classifica ma non riesce a vincere in casa. L'ultimo successo in casa del Pratola è datato 13 gennaio scorso contro il Mosciano che risale anche l'ultima volta in cui i nero stellati sono andati in gol qui a Lezioricci. Certamente Penna il Pratola per cercare di ottenere la salvezza deve assolutamente vincere tra le muramiche ma fa fatica a trovare il gioco e soprattutto i gol dentro casa. Creiamo poche palle gol, stiamo mettendo poca qualità in fase offensiva e questo in pratica non permette di avere palle nitidissime. Anche se fondamentalmente ogni partita ha quelle due o tre occasioni abbastanza buone per poter far gol ce l'abbiamo sempre e in un modo o in un altro non riusciamo mai a buttarla dentro. In questo momento devo essere sincero, sono molto contento di non averla persa perché molto probabilmente tre o quattro settimane fa questa partita l'avremmo persa 1-0 con quell'occasione loro alla fine che ci hanno fatto in contropiede. Io sono già abbastanza contento per aver preso un punto che fa leggermente muovere la classifica. La partita è piuttosto equilibrata, in effetti non ci sono state durante la gara grosse emozioni. Noi abbiamo forse provato a giocare qualcosina in più però erano due squadre a corte e noi non passiamo un buon periodo. Quindi è stata una partita molto equilibrata e certo che se avessimo fatto gol nel finale sarebbe stato tre punti forse non completamente meritati ma comunque due o tre occasioni abbiamo costruito nel finale.